ciao ragazzi buonasera benvenuti sul canale vorrevo presentarvi i miei ultimi arrivi in quanto riguarda sempre l'on video e niente non sono gli unici ma volevo fare questo video dedicato perché sono gli arrivi da parte del mio amico daniele francardi della sua piano 9 ovviamente se non conoscete lo store sta su facebook chi è di roma può andare da vicino e niente io cambierei visuale passerei direttamente a farvi vedere i prodotti in arrivo da parte di daniele cambiamo visuale ed eccoci qua con gli arrivi allora io passerei a farvi vedere prima per qualche dollaro in più tra l'altro mi ha fatto era un prezzo davvero vantaggioso pensate soltanto 16 euro ovviamente era cellofanato io il film l'ho visto questo qui vorrei fare un video dedicato perché secondo me lo merita ma non tanto per l'edizione che comunque stupenda della forcalt della eagle ma per quanto riguarda l'aspetto tecnico quindi questo qui è uno degli acquisti arrivati da daniele davvero bello ve lo faccio vedere così vedete un po ovviamente la slip case soft touch ma poi lo vedremo appunto singolarmente altri tre arrivi fanno parte della collana oblivion green house ma questa edizione con cartolina numerata la mia mitica numero 10 250 è in esclusiva come potete vedere per piano 9 il negozio dell'amico daniele la mia numero 10 di 250 andiamo ad aprirla ovviamente farò attenzione a non rovinare il bollino lo metterò all'interno perché sta sulla potete vedere il mio bollinazzo numerato la casetta degli orrori che è la commedia splatter per eccellenza un film di richard friedman con patty mullen rot rat collins christine davis e michael rovin horror con la pronuncia di sex and city i extra non è la troma cura di horror dipendenza 5 minuti e 48 secondi il trailer 35 secondi una foto calorie da due minuti abbiamo l'audio in italiano 2.0 dolby digital in inglese durata del film 75 minuti dice per versione perché ci sono due versioni con due formati uno con l'uno 2.16 noni e l'altro il 2 4 terzi cioè quindi abbiamo sia il film in 16 noni che in 4 terzi vedi infatti contiene le versione stessa durata diverso formato vi presentiamo la casetta degli orrori bla 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 quindi vedete oblivion green house e niente questa è l'edizione con cartolina che poi andrò ad inserire all'interno esclusiva piano 9 film che non conosco ma sono curioso io poi queste iniziative le ne prendo sempre a cuore perché comunque sono amici oblivion e fanno titoli tra l'altro che non rimaniamo mai delusi quindi vanno presi il secondo titolo è la maledizione di erika che horror fantasy action indonesian cult mockbuster che nessuno può fermare la sua vendetta nessuno può fermare il suo eros con barbara costable in la maledizione appunto di erika sempre anche questa numero 10 limitata andiamo a vedere come si presenta all'interno poi ci conserviamo i bollini qui abbiamo una female terminator in salsa psicotrica anche qui 2.0 italiano quindi audio italiano durata 77 minuti come extra abbiamo l'arte del mockbuster a cura di horror dipendenza 4 minuti e 34 secondi trailer giapponese il trailer tedesco il trailer francese scene alternative 5 minuti e fotogalleri la maledizione di erika è diventata negli anni un cult indonesiano quasi alla pari di mystics bali uscito otto anni prima e diretto dal medesimo regista high tg dahili conosciuto anche come lady terminator si fa proprio al terminator di cameron ma che cita in maniera assolutamente plateale che cita in maniera assolutamente plateale scusatemi ragazzi ma è difficile leggere con la testa spostata davanti alla camera come vi ho sempre detto il risultato è un prodotto folle di grande intrattenimento che portiamo in italia per la prima volta in dvd con il doppiaggio d'epoca trasplatte inseguimenti sparatori esplosioni e qualche scena macabra farà felici anche gli avanti del cinema horror quindi davvero interessante qui abbiamo una bella cartolina in esclusiva appunto per piano 9 e le esclusive per piano 9 erano solo queste due mentre l'altro grindhouse by oblivion è il messia del diavolo un film di willard h gloria kent il terrore regna quando lui ritorna andiamo ad aprirlo questa volta mi aiuto con le forbicine e la colla vinilica ragazzi ogni volta dico sta cazzata perdonatemi ma mi diverte allora qui non dobbiamo conservare nulla via tutto si presenta così abbiamo il dvd un misconosciuto zombie movi anni 70 un vero capolavoro di bizzarria visuale capace di creare i genuini momenti di terrore edizione del film horror rudy salvagnini extra vicini di casa e altri mostri a cura di horror dipendenza 6 minuti trailer 44 minuti 44 secondi e promo italiano inglese dolby digital 2.0 durato 86 minuti qui non mi leggo la trama mi scoccio scherzo una giovane ragazza harleti miriana hill torna nel villaggio natio in cerca del padre un pittore surrealista e meresteriosamente scomparso in questo strano paesino arriva all'oceano l'atmosfera che si respira e cuba sinistra e dopo l'arrivo di harleti iniziano una serie di eventi macabri la ragazza scoprirà di essere finita in un bel mezzo di una piaga mortale dove un infernale messia trasforma gli uomini in mostuose creature simili a zombie cannibali bramosi di carne umana bene si prospetta molto leggerino andiamo a vedere l'interno ragazzi vi faccio vedere anche gli interni degli altri perché mi sa che li ho saltati sì infatti tipo questo non me l'avevo fatto vedere vi faccio vedere anche l'altro davvero ben curati ragazzi sono come potete vedere versioni integrali da master 720p hd ovviamente i dvd sono in sd però c'è da dire una cosa ragazzi quando il master del dvd è buono è comunque c'è comunque un ottimo risultato eh cioè non è da scartare a prescindere perché è il dvd anche perché forse l'ho detto già in qualche video però ovviamente ti vedrà per primo questo come come primo video cosa che non mi auguro a volte ci rifilano dei blu ray che alla fine non sono tanto meglio dei dvd soprattutto per certi titoli c'è quindi non diamo per scontato che un dvd si veda male anzi io comunque la vedo su un 65 pollici quindi credetemi alcuni questi non li ho visionati ma mi fido degli amici di oblivion grindhouse che in genere usano soltanto master di grande qualità e niente vabbè saluto l'amico giacomo l'amico mattia l'amico francesco quindi oblivion ma farca caffè da brivido e on movies ovviamente e inoltre daniele francardi appunto con la sua piano 9 che ha distribuito queste due versioni con card che dove l'ho messa la card avevo sbagliato vediamo forse ho messo la card infatti sbagliando quindi queste due versioni con card numerate ragazzi fatevi un giro sul sulla pagina di daniele sul la pagina di daniele sul sito movies sito mafarca ragazzi c'è tanta tanta roba veramente ve li consiglio beh ragazzi spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace attivate la campanella non mi stancherò mai di dirlo ma soprattutto interagite perché a me quello che più piace è la vostra interazione cercherò di cambiare un po il format nel senso che cercherò anche di parlare un po più tecnicamente di alcuni film quando farò l'unboxing dedicato quindi parlarne anche un po artisticamente ma lo farò dopo la visione dei film in questo caso quindi attendetevi novità e tra l'altro per gennaio ho in mente un'altra grande novità che poi vi farò presente niente vi auguro una buona serata a presto ciao a tutti